ah fratelli ma hai sputato sulla macchina ma non vedi frate com'è che sei rosicato frate sei rosicato mamma mia frate sei forte lo sputo fai io non faccio a tuo padre frate che ti ha dato sta testa di cazzo che c'è fai ora quella sgarrata in culo di tua madre bello fratelli grazie frate mi hai ricordato che la tua mano fratellino per svolgare la tua frustrazione esistono tanti metodi uno psicologo uno psichiatra oppure un'analisi interiore che ti puoi fare dentro a te guardando dallo specchio e guardando infatti dalla realtà non hai bisogno di andare a manifestare il tuo malessere in questo modo disumano però io ti capisco e ti perdono sono un po' come la religione frate però ti invito a curarti io ero come te frate non c'avevo una ira se dico la verità ma non andavo in giro a fare queste cose no? non l'ho mai fatta perché ho un'etica io sono una persona di un certo tipo e quindi si sono visti poi i risultati ricordati che scegli sempre tu chi sei e cosa fai e lo dicono non l'ho mai fatta perché non le vediamo adesso e fratelli no? no? no?